Sì, dove c'è il pulpo? Dove c'è il pulpo? Sì, andava il cannaiolo Rugga Fa' me la me Odi, scacciate, ok Ok Sei riuscita? Sì Ho fatto anche delle foto dopo, adesso, mentre venivo qua Finalmente si è riuscita a fare una cosa No, erano solo parole Eh, ma dai, ora dobbiamo vedere l'altro L'altro è proprio qui Eccola, il reporter Sì, sì, sono andato sul cumulo a filmarlo Mario